Ormai sulla ricostruzione e sul blocco è scontro durissimo. Anche la CNA ha proclamato lo stato di agitazione e sta meditando azioni urgenti da intraprendere per contrastare appunto questo blocco della ricostruzione che si determinerebbe a causa delle mancate nomine negli uffici speciali. A darne comunicazione è stato direttamente il direttore della CNA, Agostino del Re, che ha attaccato duramente il governo, reo di non aver preso una posizione netta in merito alla governance. Per Del Re, l'ultima notizia su una presunta incompatibilità di Raniero Fabrizi, titolare dell'USRA, di recente nominato dal governo a capo della struttura tecnica di missione, getta ancora più ombre sulla questione. A rischio ci sono centinaia di imprese artigiane, ma anche l'indotto, i rivenditori di materiali edili, le ditte che operano in subappalto, con il blocco che poi inevitabilmente si prefigurerà delle pratiche da esaminare negli uffici speciali. Domani, intanto, è prevista un'importante riunione a fossa, che è stata convocata dal coordinatore dei sindaci del cratere, appuntamento alle 16, per decidere altre forme di protesta. La situazione avrà, di certo, pesanti ripercussioni, a causa del blocco del pagamento da parte dei comuni, a cui non arriveranno, dunque, fondi, vista la situazione, sino alle nuove nomine. Anche la deputata del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, è stata durissima ed è tornata nuovamente all'attacco, definendo questo governo bugiardo, colpevole di aver ignorato completamente l'Aquila dalla legge di bilancio. Nel capitolo dell'emergenza, infatti, l'Aquila, le popolazioni colpite dal sisma del 2009, non compaiono neppure.